Questo è quello che avevamo rubato l'altra volta? No, questo è il filmatino cari Le ruba ma fa la spiaggia no? Chiudi un po' Lei fa finta che ci vede le rubate la chiesa di là Giulio Giulio si è stato ripreso, deve solo la parte alta Giulio si è stato ripreso, non lo so Sì, si è stato ripreso Tanto quanto? Ma io dove andiamo a chier, dove andiamo a fare il negozio? Ma questo si combattono E questo non finiamo Vabbè, c'è il problema cosa, la chiesa, l'ultimo dopo Scusatevo ci raccetti. Scusatevi. Una roma, una roma. A te la 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 la, no? Scusatevi. Io sto facendo il mano. A te la 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 la, no? A te la la la, no? E' meglio che noi ascoltatevi. A te la la, no? Non vi succhicka. Sei fuori. Insomma, no? Un po' di ... Do sanò barzelletta. Mario! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un saluto a Nicaragua, un saluto a Nicaragua, un saluto a Nicaragua, un saluto a Nicaragua, un saluto a tutti i miei amici. E' un saluto a Nicaragua. 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 Un saluto a Nicaragua.